Si chiamava Euridice Dixon, era una giovane attrice di successo e pensate che è stata dapprima violentata e poi uscisa, stava tornando a casa da uno spettacolo di sua proprietà, si è spenta a Melbourne in Australia a soli 22 anni di età dopo aver mandato un messaggio ad un caro amico annunciandogli che per fortuna era arrivata sana e salva a casa dopo l'esibizione. A dare allarme al 911 però sono stato lo stesso assassino, un dicione che si era legato dalla polizia raccontando ciò che aveva fatto e avrebbe indicato agli agenti il luogo del massacro del dritto. Una storia incredibile, assurda, triste quella che ci giunge dall'Australia che ha per protagonista questa giovane ragazza, Euridice Dixon, di soli 22 anni di età. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione. Euridice Dixon riposa in pace. Amen.